buongiorno il mistero della notte di giuda continua a essere al centro della liturgia anche nel terzo giorno di questo piccolo triduo della settimana santa il mercoledì santo in cui è il vangelo di matteo che ci propone la figura del traditore come protagonista della parte iniziale dell'ultima cena siamo al capitolo 26 di matteo versetti dal 14 al 25 all'agire di giuda viene affiancato il giudizio su di lui da parte di gesù che a dire il vero è piuttosto duro meglio per quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene traduito se non fosse mai nato un'affermazione interdetti ma chi allo stesso tempo rimanda a una verità straordinariamente importante per noi e che non ci permette tanto di dare giudizia giuda quanto piuttosto di sentirci richiamati nella nostra responsabilità ed è la realtà della libertà della persona davanti a un gesù che conosce il cuore dell'uomo fino a intuire anche fino a dove si è allargato il desiderio giuda di vedere il suo maestro rispondere alle proprie aspettative e chissà anche i suoi grandi e alti ideali di liberazione di israele aspettative ideali delusi dalla presenza di un messia che è servo e che è umile piuttosto che anche guerriero e nemico armato dei occupatori ebbene questo messia questo gesù che conosce l'animo umano non interviene imponendosi all'animo umano ma rispetta profondamente la libertà di una scelta e in qualche modo sembra diventarne anche vittima passiva ma in realtà significa per lui mettersi in gioco in una relazione autentica anche con colui che sceglie il male anziché il vivere una relazione d'amore attingendo alla fonte di questo amore per noi allora giuda diventa riflesso di tutte le nostre scelte libere e responsabili che però negano il dono d'amore fino alla possibilità che ci rimane sempre pur nell'ultimo istante di ritornare sui nostri passi ed è quello che speriamo confidiamo abbia potuto fare anche giuda pur nel gesto tragico del suo suicidio tutti eventi drammatici che danno il tono e la consapevolezza di quanto sia forte la battaglia che si combatte dentro di noi siamo veramente creature libere dio non vuole farci per nulla marionette e questa libertà si gioca nel campo difficile nella realtà di uno scontro tra il bene e il male che non è fuori di noi che non dipende dagli eventi esteriori ma dipende da quanto dentro la nostra anima si sceglie di alimentare come spazio di vita e di esistenza fermo restando che fino all'ultimo il signore gesù non smetterà di stare dentro la relazione con l'uomo perché quest'uomo abbia una possibilità anche estrema di ritornare dentro la relazione con dio buona giornata grazie grazie grazie